Dopo la partita Genoa-Napoli sembra a rischio anche un po' la ripresa del campionato di Serie A Lei che aveva detto che riapriamo gli stadi un po' alla volta, ora si stende la questione di posto? Ma io continuo a ritenere che il buonsenso deve prevalere, io continuo a ritenere che l'apertura degli stadi un po' alla volta si possa fare adesso tranquillamente con il distanziamento, con gli ingressi scaglionati, col senso di responsabilità, cosa diversa che per i giocatori vale una regola diversa che per tutti gli altri cittadini il tema della quarantena, si è arrivato al caso del Genoa perché per i giocatori c'è una regola diversa rispetto ai cittadini e quindi si è consentito colpevolmente di rischiare un contagio maggiore all'interno delle squadre come è avvenuto nel Genoa perché se non c'è l'obbligo di quarantena anche per chi ha avuto contatti diretti, cosa che c'è per noi, per qualunque altro cittadino oltre che persone delle istituzioni, qualcuno ci dovrebbe chiedere ma perché per i calciatori il virus ha una regola di ingaggio diversa che per gli altri cittadini e siamo arrivati al punto che per colpa di questo modo di procedere adesso si rischia di chiudere un'altra volta il campionato